L'efficacia del laser nella chirurgia estetica, ce la spiega il dottor Daniele Bollero. Finita l'estate, giustamente le notizie parlano di nuovo del ritorno del laser e la gente ha sempre intorno al laser un qualcosa di magico, pensa che non sia invasivo, pensa che dia dei risultati incredibili, invece in questi anni è molto importante dare la comunicazione giusta che tutti i giorni i pazienti mi chiedono intorno al laser. Io racconto sempre che il laser è come la piovra, avete presente appunto il fatto che abbia una testa che si chiama laser e tanti tentacoli che sono le varie possibilità del laser e quindi in realtà proprio in questo periodo tutti noi utilizziamo il laser a seconda di quello che ci chiedono i pazienti perché quello che succede è che ogni lunghezza d'onda del laser, ogni tentacolo potrà fare qualcosa, sicuramente essendo il laser una luce non va d'accordo con la luce estiva e quindi questo è il primo motivo per il quale dall'autunno si iniziano i trattamenti laser, ma dire laser non vuole dire dire tutte le terapie e quindi ci saranno dei nomi, dei vari tipi di laser che faranno cose diverse, ci sarà quello che toglierà i peli, e quindi farà l'epilazione, ma ci sarà quello che toglierà le macchine perché dopo l'estate è un grande tema, toglierà la parte, il rosso, i capillari e cose di questo genere, ma io uso anche in sala operatoria per la liposuzione, quindi come dire il punto di questa di nuovo intorno ai laser è che stanno crescendo le possibilità di utilizzo di questi macchinari, ma ci va informazione, quindi il messaggio è certo inizia la stagione del laser, ma informatevi bene, non è mai una sola seduta, se sono sedute ambulatoriali ci vanno più sedute e quante nessuno lo sa perché bisogna vedere la reazione rispetto alla pelle della paziente e quindi in realtà con il laser si inizia sempre un percorso che se correttamente preparati dà grande soddisfazione, ma bisogna anche pensare che se non si è preparati o si pensano risultati miracolosi può dare dei problemi, quindi sicuramente ottimi trattamenti con il laser, ma informatevi sempre bene.